Siamo qui a Chiesa Nuova e in questa occasione speciale che è 130 anni dell'inconorazione della Madonna del Bosco di Panni con la stata originale che il primo maggio l'abbiamo portata a incoronare dal Papa e ora è venuta qua ieri a Montemurlo e oggi qui alla parrocchia di Chiesa Nuova. Quando negli anni 60 i primi pannesi emigrarono a Prato e Montemurlo dal piccolo comune dell'Appennino Dauno non dimenticarono mai l'affetto e la devozione nei confronti della Madonna del Bosco, la sacra immagine simbolo della loro comunità di provenienza. Ogni anno a maggio nel mese mariano questo legame si rinsalda con una grande festa in onore di Maria. L'edizione 2024 inoltre ha assunto un valore particolare. Nel 1894 Papa Leone XIII attraverso il capitolo Vaticano ha incoronato la statua della Madonna del Bosco. Dopo 130 anni il popolo di Panni si è ricato tutto a Roma il primo maggio scorso perché il Papa Francesco ci ha ricevuti in sala nervi e ha benedetto le nuove corone che il Papa ha messo sul capo della Madonna e del bambino Gesù. E' la prima volta che la statua originale della Madonna viene qui a Prato quindi a visitare la comunità dei pannesi pratesi diciamo. Speriamo che questo pellegrinaggio di Maria, questa peregrinazio Maria serva a come dire a stringere sempre di più i rapporti tra Panni, Prato, Montemurlo e tra le comunità dei pannesi qui vi residenti.